Finalmente è arrivato il giorno della riapertura. Da oggi possono infatti riaprire al pubblico negozi al dettaglio, bar, ristoranti, estetiste, parrucchiere e quasi tutti oggi a San Giovanni hanno riaperto. Hanno riaperto in tutta sicurezza rispettando tutte le normative e tutti i protocolli previsti dal Covid-19 per accogliere i loro clienti in tutta sicurezza. C'è tanta voglia di ripartire sia fra gli operatori che fra le persone, c'è tanta voglia di normalità, voglia di ritorno alla quotidianità, c'è voglia di prendere un caffè al bar o semplicemente di passare da un negozio per salutare un'amica. Con questo virus dobbiamo imparare a convivere, quindi i nostri imprenditori si sono attrezzati per accogliere in tutta sicurezza i loro clienti. Imprenditori che grazie alla loro tenacia, alla loro forza di volontà e con professionalità stanno affrontando questo periodo veramente difficile della nostra storia. A loro va il nostro bocca al lupo e una buona ripartenza a tutti.